Prima di iniziare il video ti ricordo di Premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace Grazie I fan del gossip sono in fermento, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi si stanno davvero rivedendo? Dopo anni dalla loro presunta relazione dietro le quinte dell'Isola dei Famosi, il destino sembra averli riavvicinati, questa volta sul palco di tale e quale show Entrambi, oggi, sono ufficialmente single e il mondo dello spettacolo non può fare a meno di chiedersi se certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano, come canta Venditti I due conduttori, a distanza di sei anni dalla loro presunta liaison clandestina, si sono ritrovati fianco a fianco durante una puntata speciale del celebre show Stefano De Martino, giudice speciale, e Alessia Marcuzzi, giurata fissa, hanno suscitato non poche curiosità dietro le quinte Secondo alcune indiscrezioni riportate da D'Agospia, i due non si sarebbero neppure salutati, mantenendo una distanza quasi glaciale Tuttavia, fonti più romantiche, come Diva e Donna, vedono in questo silenzio un chiaro segnale, c'è il ritorno di fiamma, sono di nuovo insieme Ma prima di continuare, aspetta un attimo Ti piace il video? Iscriviti, attiva le notifiche, metti un mi piace e lascia un commento Il tuo supporto per me è prezioso Nonostante le voci di gelo tra i due, ciò che accade lontano dalle telecamere potrebbe raccontare un'altra storia Alcuni insider rivelano che i due si starebbero frequentando di nuovo, lontano dai riflettori, preferendo mantenere un profilo basso per non alimentare ulteriori gossip La domanda che tutti si pongono è, questo incontro casuale tra Stefano e Alessia è solo una coincidenza lavorativa, oppure c'è davvero un ritorno di fiamma? Il pubblico ha le antenne dritte, e le speculazioni non si fermano Entrambi sono liberi da impegni sentimentali ufficiali, Stefano, dopo la separazione definitiva da Belen Rodriguez, e Alessia, fresca di rottura con Paolo Calabresi Marconi Che sia il momento giusto per dare una seconda chance a un amore mai davvero spento? Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti Grazie mille per essere stati con noi oggi Speriamo che il video vi sia piaciuto Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video Grazie mille per oder questo video Grazie mille per ricavare uno